A scuola per imparare la lingua italiana e imparare un lavoro. In Umbria questo è possibile, dall'incudine al vocabolario, saldatura e grammatica, formazione ed inclusione vanno a braccetto alla Scuola delle Arti e Mestieri Bufalini. Sono 25 alunni provenienti da Mali, Guinea, Costa d'Avorio, Marocco, Burkina Faso, Bangladesh, richiedenti asilo politico ed iscritti al programma Garanzia di Occupazione Lavoratori della Regione Umbria per il corso di saldatura, che hanno ottenuto e lascia passare per l'ingresso nel mondo del lavoro ed alcuni di loro già dalla prossima settimana potranno essere assunti con regolare contratto. Le attività alle quali hanno partecipato fanno parte di un progetto più ampio che si è svolto durante i mesi di aprile, maggio e giugno all'Istituto Bufalini per un totale di 55 ore suddivise in 4 ore ciascuna di lezioni. Al corso hanno partecipato 25 alunni che provengono tutti, maggiorenni ed iscritti, dal programma Garanzia e Occupabilità Lavoratori della Regione dell'Umbria per il corso di saldatori. Uno di loro ha seguito il percorso di cucina e gastronomia. Tutto quello che facciamo rispetta comunque la società di oggi, la realtà di oggi, quindi come perlomeno dovrebbe essere la nostra società e comunità, ovvero il più inclusiva possibile. Oggi per questi ragazzi è stata una giornata molto importante perché hanno ottenuto un primo grande traguardo formativo e professionale. Io vorrei prima di tutto ringraziare tutto il personale che è intervenuto nella realizzazione del progetto perché i progetti erano di due tipi. Uno d'aula dove i ragazzi hanno frequentato un corso di italiano impegnativo per il personale perché i ragazzi erano tantissimi, erano circa 25. E poi ha fatto seguito il corso di saldatura o di cucina dove i ragazzi hanno frequentato e ancora oggi stanno frequentando 300 ore specializzanti nei settori dell'industria meccanica oppure della ristorativa e alberghiera. Infatti come si ricorda sono le istituzioni che hanno dato il via a questo importante progetto, ovviamente l'istituzione Bufalini che è sempre attore principale, protagonista rispetto a tematiche sia del lavoro che dell'inclusione e dell'integrazione. Poi ovviamente la regione che ne ha finanziato la progettualità, il centro per l'impiego che ne ha fatto un po' la regia, tutto il mondo associazionistico datoriale che ne è direttamente coinvolto. Città di Castello, l'Alto Tevere è un luogo dove il lavoro è protagonista, anche gli ultimi dati recenti che sono stati emanati dalla Banca d'Italia hanno evidenziato come il motore trainante dell'economia ombra è l'Alto Tevere e non è un caso che questi progetti nascano proprio da qua. Una fonte di occupazione estremamente elevata, chi ha voglia di lavorare il lavoro lo trova e anche chi ha bisogno di essere incluso all'interno della nostra comunità trova dei percorsi per poter essere inclusi. Questa è una testimonianza dove nel mondo della manifattura, del lavoro, dell'artigianalità si danno dei percorsi e delle opportunità a tutti, sia che siano autoctoni sia che non siano autoctoni, di poter svolgere un valore positivo per il nostro territorio. Sì, oggi è un giorno importante perché è veramente un progetto di qualità dove mettiamo insieme inclusione sociale, lavoro, economia, insomma è veramente un progetto all'avanguardia che guarda al futuro. Sì, sì, è un modo concreto veramente innanzitutto per essere inclusivi ma poi anche per dare risposte alle aziende che non trovano comunque degli operai specializzati, insomma. E qui la Bufalini gioca un ruolo fondamentale ed importante per lo sviluppo anche economico del futuro della nostra vallata. Sì, sì, è un modo particolare, ma veramente sono iniziative significative, andiamo subito sul concreto, sul mondo reale, questo è un aspetto fondamentale su cui imposteremo tutta la nostra legislatura e il nostro mandato.